allora stamattina io proverò a cambiare cioè stamattina magari il video lo vedi oggi pomeriggio o anche l'hai visto ieri pomeriggio non so come funziona comunque proverò a cambiare la tua prospettiva la tua percezione delle intenzioni di ricerca partendo da una domanda semplice che sono le intenzioni di ricerca e lo dovresti sapere sono il motivo per cui scrivi nella search bar di google qualcosa che stai cercando tante volte senza neanche avere piena cognizione di cosa stai cercando del motivo reale per cui stai cercando una cosa e di cosa veramente ti interessa una ricerca per la query cascata del niagara ad esempio può aprire a diverse intenzioni per esempio fammele vedere quindi mostrami una foto un video quanto sono alte dove si trovano come mi devo vestire per andarci che documenti mi servono la maggior parte dei siti che offrono queste informazioni sono siti legati al turismo delle cascate e dunque c'è un tipo di sito che offre certi tipi di contenuto e questo va bene ci sono però serp molto mutevoli rispetto al tipo di sito che ti mostra in funzione della query che hai espresso da che dipende dipende dall'incertezza ma dipende dall'incertezza di google o dalla tua mi spiego se la query ha diverse intenzioni di ricerca tali da essere trattate proprio da siti di tipo diverso ad esempio se cerco smaltimento amianto può venire fuori un paper universitario oppure un'azienda che si occupa di smaltimento amianto o ancora un blog che parla di edilizia o addirittura un blog che parla di fai da te quindi sono tipi di siti diversi che trattano lo stesso argomento in modo diverso e c'è dunque un'incertezza se la query è smaltimento amianto google tante volte non sa cosa mostrarti ma l'incertezza non è di google l'incertezza è la tua l'incertezza è quella degli utenti che non sanno bene dove andare a cercare e dunque piuttosto che indagare le intenzioni di ricerca dobbiamo andare a indagare le intenzioni di risposta vale a dire che cosa google ha più intenzione di rispondere e lo fa rispetto poi alle scelte che facciamo del click su uno o più risultati di google da cui viene fuori che un certo tipo di siti talvolta indipendentemente dal contenuto del tipo di contenuto ottiene dei posizionamenti migliori quante volte ti è capitato di riscontrare che il tuo articolo sebbene molto curato molto circostanziato non otteneva lo stesso posizionamento di un altro articolo su un altro sito di tre righe semplicemente perché google non funziona bene perché google commette errori o perché magari google aveva scelto quel tipo di sito perché lo riteneva più adatto al tipo di ricerca degli utenti l'intenzione di risposta di google favorisce il tipo di intenzione di ricerca che gli utenti mostrano attraverso il click quindi c'è un tipo di sito che talvolta vince sul tipo di contenuto cioè sulla qualità del contenuto su come è stato scritto su quanto bene è stato scritto mi rendo conto che è strana questa cosa perché sto dicendo in pratica che non sempre il contenuto migliore vince non sempre il contenuto più curato più ricco ma tante volte c'è un'altra euristica di google cioè un meccanismo di semplificazione in base al quale indipendentemente dal profilo backlink o dall'anzianità del sito ma c'è proprio il tipo di sito ad esempio lì ci deve stare un sito aziendale perché google ha notato che la maggior parte degli utenti cerca aziende in funzione di quella query in particolare quindi se tu hai un blog nonostante magari ci hai messo dentro il meglio del meglio non funziona come un sito dell'azienda che tratta l'argomento in modo magari più superficiale allora questa è l'intenzione di risposta cioè come google intende rispondere e allora che cosa possiamo farci possiamo cercare di allearci con l'innemico laddove possibile chiaramente andiamo a prendere il nostro contenuto e cerchiamo di infilarlo nel sito giusto quindi chiaramente non è che ora facciamo i contenuti di tre righe facciamo sempre un ottimo lavoro nella redazione di contenuti ma teniamo presente che anche il tipo di sito proprio il tipo ok non l'anzianità non il trust non c'entra questo c'entra il tipo di sito questo è un lavoro interessante da fare per il presente per adesso questo